e costa che cada via ha da bimba di lanti è parte di finanziamento di compagare il transazione e il costo di transazione è stato un tópico con il quale via ha da bimba di lanti un altro tópico che ho provato che non sono state delle pregunte di questa infrastruttura non tecnologica però si portare di internet di avanti una ha un'implesi in un'implesi da un'implesi a un'implesi che non si può fare quindi non ciò ti ha persociato perché ogni carro metti a un'implesi